Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Cora O Cio Un I chai la oi! Te ne ho Dario 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 a e ma certo gli ero сь alla ultimaạca via attacca r bekommen ed tempo The is Mi piacerebbe Il fatto che non so se è stato Io ho fatto che non sono stato L'altro è stato venuto Adesso che iniziò Noi Non si è venuto 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 Sì, è difficile. Anche le ho anche usano. Chia di usano. Non si usano? Chia di usano? Non si usano... ... ... ... C'è un giusto che si può fare... ... 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 Io sono un giro. Oye! Oye! Poi! 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 Anima yuka ukanomoy! würden 猫になっちゃったんだ、俺は 誰が飼ってるの、この猫は。 Wietter 家帰ってきたらいたんだよ。 気づいたらいたんだもう。 やそう、たぶん、誰か、連れ帰ってきたんだと思うんだけど。 誰だろな。 これは、このあたりある? これは、誰がいる? えーと... Lattar, Guchitsubo, Painto, CaniPink, Uruka Ahhhh Uruka ka? 22 level E, mahtè, non c'è... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah! Oye, nandè che ci cos'è? E? Il mene, non è iniziata? Il mene, il mene. E? Il mene, il mene, il mene. Il mene, il mene, il mene. Tomo, il mene, il mene. Nandè Tomo, il mene, il mene. Poco, poco, poco. Ocazì, te? Poco, il mene, il mene. Poco, oren. Età. Ità, dà, dà, dà. Tomo, si è droi. E? E? Nandè, perché? Nandè, tomo, si è ocazì? o poちゃん poza ah itta a stagli lascia ta va a8 portion no morea miettua to走った時に出る砂 boro oi 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 miettana che una a me che mi chora doobus giocano Sì Il nuovo forse è inattito. Ma dai. Sì, come se ti vede, lo mando. Panna è inattito. Noi, noi, noi. Noi, noi, noi. Si, noi, noi. Panda. Panda, panda, panda. Non è che in là, maggi. Panda, panda, panda. Ma già, ma già, giù in alcance. Doi, ma già già già. È un giustito, però. Sì c'è ... ... noo nessuno si chiama chiedite chiedite chiama chiama chiedite a tre Sì non è che non è vero non è vero ti sei che non è vero non è vero non è vero maggi di ogni giorno non è vero è vero non è vero non è vero a ah vabbè iscrivi! Fai qui Cosa? Aca gottabio Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Il clipe mi sono state fatte A lui Gutsu si chiedi Lariaki si sono citysigli Non è qu prospects Chau. Fran and Sisco? L'eccato? Totti? Totti. Totti che non hai. Sì. 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 Chiisega? No stai chiudono? Doanè? capture! Ah vuole! servemata! Приglasino! servemata! doanè? o cano'e quanto? voilano! chiusa, chiusa! un uomo che dàmi I'm not sure 餃子食いますよ クレープに挟ま 何これ そもそも餃子がクレープみたいな感じのもんな 何言ってるんですか 肉クレープ うーん ええー はははは おめー 左耳にイカれたわ今の辺 左 .